Il progetto nasce dalla consapevolezza che il microbiota intestinale, quindi l'insieme di microorganismi che popolano il nostro tratto gastroenterico, è un fattore determinante allo sviluppo di numerose patologie e in particolare di patologie che interessano appunto il tratto gastroenterico, quali le malattie infiammatorie croniche intestinali, malattie di Crohn, retocolitulcerosa, la steatosi epatica associata alla disfunzione metabolica e l'epatocarcinoma, un tumore appunto primitivo del fegato. Con questo progetto ci prefiggiamo la costituzione di un laboratorio per lo studio avanzato del microbiota intestinale all'interno del Policlinico di Milano e del laboratorio di Omics e la valutazione appunto di specifiche signature, quindi specifiche caratteristiche del microbiota intestinale in queste popolazioni di pazienti, le variazioni di queste signature, di queste caratteristiche in queste popolazioni di pazienti a seguito di un intervento terapeutico e in particolare come un intervento molto radicale sulla composizione del microbiota come il trapianto di microbiota intestinale possa modulare l'efficacia di terapie esistenti o modulare la patologia stessa. Grazie al finanziamento per la ricerca 5x1000 del Policlinico di Milano speriamo di raggiungere tutti questi obiettivi.